Il reparto in cui ha passato giornate e mesi interi, quello stesso reparto che l'ha fatto conoscere a pazienti e colleghi come una brava persona ed un ottimo medico, sarà lui intitolato. Questa è la decisione dell'ASL Brindisi che ha disposto l'intitolazione del reparto di medicina interna all'ospedale Parrino in memoria del dottor Pietro Gatti, venuto a mancare prematuramente il 31 dicembre scorso per un incidente in mare. L'uomo si è sentito male durante una battuta di pesca subacua, disciplina di cui era un appassionato. Il suo corpo è stato ritrovato dopo ora in mare con una ferita al naso non riconducibile ad una colluttazione. Tanto era stimato che la proposta ha trovato il pieno incondizionato assenso della direzione generale che ritiene doveroso un giusto tributo a una figura come quella del medico. Nel reparto sarà fissa una targa a lui dedicata.